buonasera e ben ritrovati a tutti sul mio canale di youtube la video guida di pokemon go di oggi è dedicata ai vari tipi di pokemon alle loro debolezze e a quali elementi invece sono forti quindi adesso vi illustrerò tutta una serie di tipi di pokemon insieme vedremo a quale elemento sono forti e a quale elemento sono deboli questa guida è molto importante soprattutto quando vogliamo andare a conquistare delle palestre e vogliamo farlo nel minor tempo possibile perché vi ricordo che per conquistare una palestra c'è un tempo limite e se non riusciremo diciamo a sconfiggere l'ultimo pokemon della palestra nel tempo prefissato avremmo fallito nell'intento vediamo il tipo normale come tipo normale ho messo ad esempio l'immagine di uno snorlax i pokemon normali non sono forti contro nessun elemento di pokemon quindi diciamo che infliggeranno un danno fisso a qualsiasi tipo di pokemon l'elemento a cui invece sono deboli è l'elemento combattimento quindi un pokemon di combattimento come ad esempio un itmonlee o un itmonchan infliggeranno un danno maggiore al nostro snorlax o comunque al nostro pokemon di tipo normale tipo insetto i pokemon insetto sono forti a diversi tipi di pokemon sono forti contro i pokemon di tipo erba, contro i pokemon di tipo psichico e contro i pokemon di tipo scuro mentre a loro volta sono deboli ad altrettanto tipi di pokemon infatti sono deboli al tipo di fuoco, al tipo volante e al tipo di roccia la categoria successiva è veleno questa categoria è forte contro i pokemon di tipo erba e di tipo folletto per tipo folletto intendo ad esempio un jigglypuff, un chancy e così via mentre questo tipo di pokemon sono deboli ai pokemon di terra e ai pokemon psichici passiamo ai pokemon d'erba i pokemon d'erba sono forti contro i pokemon d'acqua, i pokemon di terra e i pokemon di roccia mentre sono deboli a diversi tipi di categorie di pokemon abbiamo la categoria del fuoco, sono deboli al ghiaccio, sono deboli al veleno, sono deboli contro i pokemon volanti e sono deboli contro i pokemon insetto quindi diciamo che hanno davvero tante debolezze passiamo ai pokemon di tipo acqua i pokemon di tipo acqua sono forti contro i pokemon ovviamente di tipo fuoco, contro i pokemon di tipo terra e i pokemon di tipo roccia mentre sono deboli contro i pokemon elettrici e i pokemon d'erba passiamo ai pokemon di categoria fuoco quelli di fuoco sono forti contro i pokemon d'acciaio, insetto, ghiaccio e erba mentre sono deboli contro i pokemon di roccia, d'acqua e di terra eccoci alla categoria dei pokemon di terra i pokemon di terra sono forti contro i pokemon di fuoco, contro i pokemon elettrici, quelli velenosi, quelli di roccia e quelli di acciaio mentre sono deboli ai pokemon d'acqua, erba e ghiaccio passiamo alla categoria lotta i pokemon di lotta sono forti contro la categoria normale, ghiaccio, roccia, buio e acciaio mentre sono deboli contro quelli volanti, quelli psichici e quelli folletto passiamo alla categoria roccia quelli di roccia sono forti contro i pokemon di fuoco, di ghiaccio, quelli volanti e quelli insetto mentre sono deboli contro quelli d'acqua, d'erba, quelli volanti, quelli di terra e quelli d'acciaio passiamo alla categoria folletto la categoria folletto è forte contro i pokemon di lotta, drago e oscuri mentre è debole contro quelli di veleno ed acciaio ed eccoci alla categoria elettrici quelli elettrici sono forti contro quelli d'acqua e quelli volanti mentre sono deboli contro quelli di terra passiamo alla categoria dei pokemon psichici essi sono forti contro i pokemon lotta e i pokemon veleno mentre sono deboli contro quelli insetto, quelli fantasma e quelli oscuri passiamo alla categoria fantasma questi pokemon sono forti contro i pokemon psichici e i pokemon fantasma e vi direte abbastanza un contro senso però il gioco prevede questo sono così e saranno appunto deboli al tipo fantasma e al tipo oscuro passiamo alla categoria drago la categoria drago è forte contro la categoria drago mentre è debole contro la categoria ghiaccio, drago e folletto passiamo alla categoria ghiaccio come vedete ho messo un pokemon leggendario di ghiaccio che è articuno questi pokemon sono forti contro la categoria erba, terra, volanti e drago mentre sono deboli contro il fuoco, pokemon lotta, pokemon di roccia e pokemon d'acciaio passiamo alla categoria volante la categoria volante è forte contro i pokemon d'erba, lotta e insetto mentre è debole contro quelli elettrici, d'acciaio e di roccia ed eccoci all'ultima categoria la categoria... questa categoria è forte solamente contro due tipi di pokemon ovvero quelli psichici e quelli fantasma mentre sono deboli a quelli lotta, folletto e insetto bene ragazzi con questa video guida ho terminato spero di esservi stato d'aiuto se avete ancora qualche dubbio potete lasciare un commento sotto questo video invece se vi sono stato d'aiuto vi prego di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi al mio canale ci vediamo alla prossima guida un saluto a Rubaldo un saluto a Rubaldo un saluto a Rubaldo un saluto a Rubaldo un saluto a Rubaldo